Con il giuramento al Palazzo Presidenziale di Atene nasce ufficialmente il governo Tsipras, una squadra più snella del passato, ma soprattutto che declina nei nomi la priorità della lotta all'austerity di cui il leader di Siriza ha fatto il suo principale argomento elettorale. A spiccare insieme a quello di Yanis Dragasakis, cervello economico del partito promosso a vice premier con delega e negoziati con la Troica, è soprattutto il nome di Yanis Varoufakis, neoministro delle finanze ed alcuni definito un economista radicale alla Keynes con accenni alla Marx, che aveva paragonato le politiche di rigore al waterboarding, la tortura che consiste nel mettere ripetutamente la testa dell'interrogato nell'acqua per farlo parlare. Al leader del partito di destra dei greci indipendenti, Panos Kamenos, va il ministero della difesa, il solo accordato ai partner minoritari del governo Siriza. Già domani la prima riunione di gabinetto, poi Tsipras riceverà i presidenti di Eurogruppo ed Europarlamento.